Adesso Nokia ha preparato un filmato emozionale che io pregherei di far capire, mi tolgo dal televisore centrale, non lo tale che ne possiate capire. La, 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 la Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno Mike Ti voglio vedere se userai questo luogo o il telefonino per scrivere a Gargano e magari che cosa vi dirai Speriamo che ha prestato tanto la qualificazione Grazie a tutti Grazie a tutti